40 giorni da Presidente e arriva subito una tegola importante, quello della crisi sanità in Calabria. Un'eredità pesante, purtroppo siamo di fronte a una difficoltà dello stesso Adelaisor che lavora da due anni per decifrare e quantificare il debito, a comprendere e a capire quant'è effettivamente il deficit della sanità calabrese. Su questo ovviamente non c'è più tempo, bisogna dare una grande accelerazione, il buco è sicuramente un buco pesante, dettato da una incapacità gestionale e dal mancato rispetto anche dello stesso piano di rientro, sottoscritto a dicembre alla giunta di centrosinistra dal suo Presidente che è venuto meno nel tempo. Quali saranno i correttivi che la sua giunta intende mettere? Noi abbiamo le idee chiare su questo versante e vogliamo incidere profondamente, vogliamo che da una parte si possa dare finalmente un'operazione di rientro adeguata, capace di avere risorse e quindi di riuscire in pochi anni a dare una risposta significativa anche alle esigenze che vengono manifestate dai conti e dall'altra sicuramente riuscire a offrire anche nel tempo una qualità adeguata nel campo della sanità.